Suggestive e spettacolari per alcuni tratti ma anche inquietanti per altri, soprattutto quando scoprono i buchi e i vuoti lasciati dai pescatori di datteri. Le immagini registrate dal drone subacqueo ROV ci portano sott'acqua a vedere quello che i timori del sindaco di Vietri sul mare Giovanni De Simone e del presidente della CNA di Salerno e il maestro ceramista vietrese Lucio Ronca avevano potuto solo raccontare a voce al prefetto di Salerno Francesco Russo e al comandante della Capitaneria di Porto di Salerno Daniele Di Guardo. Ed invece grazie al drone ora vediamo cosa c'è sotto i due fratelli, le immagini che vi stiamo mostrando e quanto infatti lo strumento guidato dal professore Emilio Ventre della scuola diretta da Daniele Novi, l'istituto nautico Giovanni XXIII di Salerno, che ha uno specifico indirizzo per la conduzione dei mezzi navali, ha registrato durante il sopralluogo compiuto pochi giorni fa proprio su sollecitazione e richiesta del prefetto di Salerno. Tutto il materiale è già al vaglio dell'Università degli Studi di Salerno e del professore Feo. Il Dipartimento di Ingegneria Ambientale dovrà studiare il video e capire se effettivamente c'è il rischio che esplosivi e martelli pneumatici utilizzati per estrarre i datteri dalla roccia abbiano messo a rischio la staticità degli scogli simbolo della cittadina di Pietri sul mare che apre le porte sulla costiera amalfitana. Solo dopo verrà deciso se e come intervenire. Il prefetto di Salerno aveva anticipato che si potrebbe anche arrivare a installare dei sistemi di videosorveglianza.